Grazie mille, buongiorno a tutti, voglio ovviamente prima di tutto ringraziare il primo ministro Yi Chang per l'ospitalità, per le sue parole molto significative. Celebriamo oggi la settima edizione del Business Forum Italia-Cina, sono molto contenta di vedere riuniti qui così tanti rappresentanti di autorevoli realtà, tanto italiane quanto cinesi, la partecipazione, l'ampia partecipazione testimonia chiaramente l'interesse che tutti abbiamo a rafforzare il partenariato tra Italia e Cina. Per riuscirci chiaramente dobbiamo essere capaci di ragionare sui punti di forza e sui punti di debolezza, su quello che ha funzionato bene e su quello che ha funzionato meno bene e credo che questo sia il luogo dove farlo, che questa sia una grande occasione per farlo con l'obiettivo chiaramente comune di rendere le nostre relazioni commerciali sempre più ego e sempre più vantaggiose.